Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Affrontare con fiducia, spero dopo la condividerete a tutti. Considerazioni sulla poesia. Bisogna avere molta attenzione per i piccoli particolari e nella vita sono molto importanti perché da tutti i piccoli particolari c'è l'unione di tutta quell'azione che svolgiamo per fare le conclusioni. Dobbiamo agire con l'intenzione di avere un'intenzione saggia da portare nell'ambito lavorativo. Bisogna avere cultura perché con la cultura si cresce e la cultura è l'arma dei saggi per affrontare le cose e portarle a crescere con ottimo apportamento. Mi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Affrontare con fiducia. Bisogna avere attenzione per ogni piccolo particolare ed agire con l'intenzione di dover saggiamente lavorare. Bisogna avere cultura per crescere con buon portamento per ottenere con buona misura il giusto passo di conseguimento. Affrontare con fiducia ogni azione con giovamento cercando nell'oggi quella fermezza che ci doni incoraggiamento. Affrontare con fiducia la vita che si presenta suave e sublime per cercare la felicità eccelsa la riuscita che ci renderà felice il cuore. Grazie. Spero la condividerete a tutti. Arrivederci.